oggi parliamo di proposizione condizionale partiamo come al solito dalle parole proposizione condizionale cosa significa significa che questa proposizione è la condizione che deve esserci perché si avveri quanto viene detto nella reggente prendiamo come esempio questo periodo se pioverà prenderò l'ombrello è formato da due proposizioni perché io ho il predicato pioverà e ho il predicato prenderò prenderò l'ombrello è la principale che è anche la reggente di questa che è una subordinata di primo grado questa si chiama condizionale perché indica la condizione che deve esserci perché si verifichi quello che viene detto nella sua reggente cosa viene detto nella reggente che prenderò l'ombrello sì io prenderò l'ombrello ma a una condizione deve piovere quindi questa è la reggente di questa qui se pioverà cioè se si avvererà la condizione che piova allora io prenderò l'ombrello cioè realizzerò quello che c'è scritto nella reggente quindi questa è la reggente questa invece è la condizione che deve verificarsi se pioverà prenderò l'ombrello allora la proposizione che mi indica la condizione che è necessaria perché si realizzi quello che c'è nella reggente si chiama proposizione condizionale quindi io qua scriverò subordinata di primo grado esplicita condizionale la proposizione condizionale spesso è introdotta dalla particella se ma può essere introdotta anche in altro modo invece che dire se pioverà prenderò l'ombrello io potrei anche scrivere nel caso in cui piovesse prenderò l'ombrello è la stessa identica cosa quindi il se mi mette subito come dire in allarme ma posso anche avere degli altri modi in questo caso devo mettere il congiuntivo e non posso mettere l'indicativo qui stiamo parlando di proposizioni esplicite questo è indicativo questo è congiuntivo bisogna fare un pochino più attenzione alle proposizioni condizionali quando sono implicite vediamo questo esempio continuando così diventerai bravissimo io qua ho le mie due proposizioni continuando così diventerai bravissimo due predicati questa regge quest'altra diventerai bravissimo è la principale e questa è una subordinata di primo grado continuando è un gerundio quindi sappiamo già che questa subordinata di primo grado sarà implicita per non sbagliare io trasformo la proposizione implicita in proposizione esplicita in che modo? sostituendo al gerundio cioè a un modo indefinito un modo finito potrei ad esempio scrivere così se continuerai così diventerai bravissimo che cosa abbiamo fatto? allora questa è rimasta uguale vedi prima la frase era continuando così diventerai bravissimo io posso scrivere se continuerai così ho messo il se ho preso un modo indicativo ho trasformato la mia subordinata implicita in esplicita e in questo modo ho la certezza che questa è una proposizione condizionale perché ho la certezza? perché questa è la condizione perché si avveri quello che viene detto nella reggente nella reggente viene detto diventerai bravissimo ma a che condizione diventerai bravissimo? se continuerai in questo modo quindi di fronte a questa frase io posso tranquillamente scrivere principale subordinata di primo grado implicita condizionale bene se hai capito un pochino il meccanismo ti puoi mettere alla prova ti ho preparato qualche frase come al solito stoppa il video prova a fare l'analisi del periodo di queste frasi e poi le correggiamo insieme eccoci qua cominciamo dalla prima potrò uscire è un predicato ci sarà è un altro predicato dividiamo il nostro periodo potrò uscire è la principale ma qual è la condizione che deve avverarsi perché io possa uscire? beh, deve avverarsi la condizione di esserci del bel tempo quindi questa è una subordinata di primo grado esplicita condizionale passiamo alla seconda pensarci credo uscirò qui ho tre proposizioni a pensarci bene credo che uscirò lo stesso credo è la principale che cosa credo che uscirò lo stesso subordinata di primo grado esplicita oggettiva e poi mi rimane questa a pensarci bene se ci penso bene credo che uscirò lo stesso vedi che per togliermi il dubbio io l'ho trasformata in una proposizione esplicita questa sarebbe stata implicita perché il verbo è all'infinito posso mettere il se? certo che posso metterlo se ci penso bene credo che uscirò lo stesso quindi la condizione per convincermi di uscire è di pensarci bene allora questa sarà un'altra subordinata di primo grado primo grado anche lei perché vedi che dipende direttamente dalla principale è implicita perché ha il verbo all'infinito ed è condizionale veniamo alla terza se avessi saputo che faceva così freddo sarei rimasto a casa anche qui ho tre predicati quindi dividerò il mio periodo in questo modo se avessi saputo che faceva così freddo sarei rimasto a casa sarei rimasto a casa è la principale e adesso esaminiamo le altre c'è un se se avessi saputo sarei rimasto a casa quindi la condizione per rimanere a casa era sapere questa cosa allora subordinata di primo grado esplicita condizionale se avessi saputo che cosa che faceva così freddo allora qui abbiamo una subordinata di secondo grado perché dipende da quella di primo esplicita oggettiva verrò a patto che ci sia anche tu qui ho due predicati quindi verrò a patto che ci sia anche tu verrò è la principale a patto che è un altro modo come abbiamo visto prima nel caso in cui che può sostituire il se io potrei dire verrò se ci sarai anche tu verrò nel caso in cui ci sia anche tu quindi è un altro modo per introdurre sempre una preposizione condizionale perché la condizione per cui io vengo è che ci sia anche tu e veniamo all'ultima voglio darti un aiutino nell'ultima io ho nascosto una trappola se vuoi puoi fermare il video un'altra volta ripensarci e poi farlo ripartire magari invece sei riuscito ad evitare la mia trappola vediamo continuava a chiedermi se sarei venuto anch'io io qui ho due predicati perché ti ricordi continuava a chiedermi è un verbo fraseologico quindi lo devo tenere insieme se sarei venuto anch'io continuava a chiedermi è la principale e qui c'è la trappola perché io ho inserito un se ma questa subordinata di primo grado esplicita non è una proposizione condizionale è un'interrogativa indiretta cosa abbiamo imparato in questa lezione? sembra che abbiamo imparato proprio poco abbiamo imparato a riconoscere una proposizione condizionale beh intanto non è poco perché significa che hai imparato un'altra proposizione ma questa proposizione ti sarà utile per la lezione prossima cioè per quando impareremo che cos'è un periodo ipotetico quindi mi raccomando ti aspetto alla prossima lezione buon lavoro ti aspetto